Tragedia sfiorata in quel di Muggia questa mattina alle 9. Due persone sono rimaste ferite in località Sant'Andrea dopo un incidente che ha coinvolto un camion di rifiuti. Inizialmente il sinistro pareva gravissimo, tanto che il servizio sanitario aveva inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. Fortunatamente i coinvolti nello scontro, il conducente del camion e un passante, hanno riportato ferite non gravi e sono stati condotti all'ospedale in codice verde. Per cause da accertare da parte delle forze dell'ordine, un mezzo per il trasporto dei rifiuti è finito contro una persona che si trovava dietro al veicolo sulla strada. L'uomo come anche il conducente del mezzo sono rimasti feriti riportando varie lesioni. Il malcapitato passante a causa dello scontro con il camion, mentre il conducente è rimasto ferito dopo lo schianto contro il muro in un punto di pendenza della strada, provocando il danneggiamento di un palo della Telecom che è stato parzialmente abbattuto. I tecnici hanno provveduto al ripristino mentre l'area è stata recintata. Sul posto, oltre agli infermieri e le ambulanze, anche i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona. La polizia locale era presente per i rilievi e la gestione della viabilità.